salve sono paolo sciolli oggi vi parlo della grandinina un tipico piatto livornese fatto con poche cose ma molto buono molto gustoso specialmente nei mesi invernali la base la base della solita gruppo di verdure carota sedana e cipolla ben tritate eccole qua noi le ho già preparate in questo modo le mettete in un padellino e al fuoco con una punta di olio le fate un pochino andare quando avranno presso di sapore mettete dentro i piselli secchi questi piselli sono piselli brillati verrà fuori una specie di farinata che voi questa poi la emulsionerete la passerete al passatutto e otterrete una crema io ve l'ho già preparata ho messo dentro anche qualche fogliolina di spinacio per dare un po di verve un po di colore e qualche trancetto di cavolo lasagnino la emulsiono se voi credete di passarla al passatutto verrà ancora più fine e più amalgamata però va benissimo così a questo punto è il momento della grandinina la grandinina è una pasta molto molto abbastanza dura sono queste palline ecco il nome di grandinina che fra l'altro si fa a pisa una ditta pisana che la produce è molto buona ha un tempo di cottura intorno ai 10 minuti la mettiamo dentro e la portiamo in cottura la grandinina è pronta un bel giretto d'olio e buon appetito a tutti ma perchè come mai ma perchè in cucina non ci entro mai eh cosa c'è nella padella? mmm che profumino forse c'era un pezzettino ma che bontà ma che bontà ciao 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 ciao